Lo sciopero generale per il lavoro e l'occupazione, l'esclusione della lista il volo a diamante, i lavori allo scoglio della regina di Acquapesa, il petrolio nel Vallo di Diano. Buongiorno, edizione delle 13.45 di Retete News. In apertura, sciopero generale questa mattina a Lauria, promosso da CGL Fillea e CGL di Potenza per chiedere la riforma delle pensioni e denunciare la mancanza di misure a sostegno del lavoro. Presso lo svincolo autostradale della A3 di Lauria Nord, in località Cavallo, per tutta la mattinata, lavoratori provenienti da tutta la regione Basilicata hanno ribadito l'esigenza di attuare politiche del lavoro a difesa dell'occupazione. Destinatario di queste richieste è il Parlamento e il Governo nazionale. Un'ampia cronaca, naturalmente, della giornata. La proporremo questa sera nell'edizione di Retete News del 19.45. E sono partiti questa mattina i lavori del nuovo mercato coperto di Praia Mare. Ci dice tutto Martino Ciano. Partono i lavori del nuovo mercato coperto di Praia Mare. Da stamane l'intera aria è stata recintata. La nuova struttura sorgerà nella zona adiacente alla Chiesa Sacro Cuore di Gesù e dopo lo smantellamento del vecchio impianto la zona era diventata un ampio parcheggio. Secondo il progetto, la nuova struttura prevede al centro una piazzetta coperta attorno alla quale sorgeranno 10 box per la vendita di frutta e verdura. Non mancheranno anche i servizi igienici. L'opera dovrà essere consegnata entro 240 giorni, 8 mesi circa, ed avrà un costo complessivo di 500.000 euro, per il quale il comune di Praia Mare ha acceso un mutuo, che sarà coperto per il 70% dalla regione Calabria. Per quanto riguarda l'assegnazione dei 10 posti, ci sarà un regolare bando. Un'opera importante ed utile per l'intera comunità, ha detto Mauriziarieta, assessore ai lavori pubblici, nonché vice sindaco del comune di Praia Mare. Come amministrazione abbiamo messo la parola fine ad un progetto ampiamente dibattuto fin dal nostro insediamento. La vecchia struttura fu demolita nel 2008, anche se come polo commerciale aveva smesso di funzionare da quasi una quindicina di anni, a causa della presenza di Eternit ed Amianto nei pannelli che formavano la copertura. Con l'avvio dei lavori si chiude un iter progettuale lungo e travagliato. Subito dopo la demolizione del vecchio complesso, infatti, si pensò alla ricostruzione. Il progetto è però rimbalzato più volte dall'amministrazione comunale alla regione Calabria. Oggi, a quanto pare, la parola fine. Le elezioni ora. Il Consiglio di Stato ha confermato ieri la decisione del TAR in merito all'esclusione della lista Il Volo. A Diamante, dunque, sarà a corsa a due. Gaetano Bruno. Il Volo, la lista di Ernesto Caselli, è fuori dalla competizione elettorale del prossimo 6 e 7 maggio. Il Consiglio di Stato si è espresso ieri sul ricorso presentato dai candidati della lista di Caselli per la riforma della sentenza del TAR del 10 aprile scorso, che aveva confermato l'esclusione della lista come disposta dalla sottocommissione elettorale di Scalea. Il Consiglio di Stato ha confermato la validità della procedura per l'autenticazione della sola firma di Fabio Cavalcanti. Quelle degli altri candidati sono state ritenute non regolarmente autenticate secondo le modalità disposte dall'articolo 21,2 del decreto del Presidente della Repubblica, numero 445 del 2000. L'assenza della modalità di accertamento dell'identità del dichiarante è risultata quindi decisiva nella sostanza. Non può essere consentita in un procedimento rigorosamente formale caratterizzato da tempi ristretti, si legge nella sentenza, l'omissione della indicazione delle modalità attraverso le quali è stata effettuata l'identificazione dei sottoscrittori di una lista elettorale, con la conseguenza che non esiste autenticazione di una firma se la stessa non risulta apposta in presenza dell'ufficiale autenticante previo accertamento della identità di chi sottoscrive. La validità dell'autenticazione di una firma non apposta in presenza dell'ufficiale, specifica poi la sentenza, attiene un elemento essenziale e non meramente formale dell'atto e pertanto non può ritenersi sanata in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici da atti collegati facente parte della documentazione presentata per l'accettazione della lista alla competizione elettorale. Saranno dunque due le liste che si fronteggeranno per il rinnovo del Consiglio Comunale a Diamante, il sole del sindaco uscente Ernesto Magorno e cambiamenti con candidato Marcello Pascale. I pronostici danno per favorita la lista uscente, anche se c'è grande curiosità, su quelle che saranno le determinazioni e le indicazioni di voto degli esclusi nei confronti del proprio elettorato. L'esclusione della lista Il Volo danneggia soprattutto i diamantesi che non avranno un'amministrazione legittimata da un voto pieno e completo e si ritroveranno in Consiglio Comunale inevitabilmente monco ed anomalo come le elezioni che lo avranno partorito. Questa è l'opinione del Movimento Culturale per una Diamante Migliore sulla vicenda dell'esclusione della lista capeggiata da Ernesto Caselli. In un comunicato stampa per una Diamante Migliore si esprime comunque a favore del voto subito e si dice contraria alla ipotesi del commissariamento avanzato nel corso di questa vicenda perché avrebbe penalizzato l'economia del centro tirrenico. Andiamo a Cetraro, è tutto pronto per la quinta edizione del Vetrina Film. L'evento è previsto per sabato 21 aprile alle 18 presso il Teatro Comunale di Cetraro. Nel corso della serata verrà proiettato in anteprima rosso come un nero il cortometraggio del regista Daniele Maltese. Inoltre è previsto la consegna di un riconoscimento speciale al giornalista Arcangelo Badolati per il libro Stragi, Delitti e Misteri. La serata sarà arricchita, è scritto in un comunicato stampa, dall'esibizione dell'Orchestra Mediterraneo dei Maestri Luigi De Francesco ed Egisto Pisani e dall'esibizione del maestro Alberto Vena. Coordineranno la vetrina Mirella Mannarino e Francesca Villani e interverranno Ciro Visca, il presidente della Proloco Civitas Citrari, Gaetano Bencivini e Luigi De Francesco, rispettivamente presidente e direttore artistico del laboratorio sperimentale Giannino Losardo. Andiamo ora ad Acqua Pesa, in particolare torniamo a parlare dello scoglio della regina, bocciata la proposta del Parco Marino Riviera dei Cedri. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Manuela Passarella. I tubi allo scoglio della regina si sarebbero rivelati un buco nell'acqua. La proposta di installazione sul fondale dello scoglio di grossi tubi in cui versare sabbia presa direttamente dalla spiaggia era stata messa in campo dal Parco Marino Riviera dei Cedri durante l'incontro del 2 aprile scorso tra i rappresentanti dell'ente guidati dal presidente ciriaco a Sorino, il sindaco di Acqua Pesa Giovanni Saverio Capua e i vertici e i tecnici della ditta che ha in mano i lavori di ripascimento. Obiettivo la salvaguardia dello scorcio marittimo in cui risiede lo scoglio, ma l'idea sarebbe stata bocciata direttamente dalle acque del Tirreno Cosentino. Ricordiamo che lo scoglio della regina durante le scorse settimane è stato protagonista della costruzione di una barriera massi che ora lo collega direttamente alla spiaggia di Acqua Pesa. Nelle intenzioni dovrebbe servire a contrastare l'erosione costiera del litorale di Guardia Piemontese e Acqua Pesa, ma per molti è uno scempio da fermare. Il disegno del Parco Marino di installare stubi sui fondali secondo l'ente con sede a Praia Mare avrebbe portato anche a un risparmio nelle attività di recupero, taglio e trasporto di massi dalle montagne. Tappa successiva è stata l'analisi dei costi e lo studio dei fondali da parte della ditta che ha in mano i lavori. L'esame servirebbe a capire se questo progetto di ingegneria naturalistica che secondo il Parco Marino sarebbe più compatibile con i fondali, più sicuro per il litorale e meno impattante per l'ambiente, sia la giusta alternativa al secondo braccio di barriera su folta che nel progetto originale si andava ad aggiungere a quello già realizzato. La smentita sarebbe arrivata direttamente dalla forza del mare che avrebbe portato arriva ai tubi durante le prove tecniche da parte degli specialisti. Per il momento intorno allo scoglio della regina comunque tutto è fermo. Le forti mareggiate dei giorni scorsi, dovute al maltempo e in particolare al mini ciclone lusi, hanno di fatto bloccato tutte le attività relative allo studio e ai lavori. Da lente intanto, una volta appresi i risultati delle analisi, si starebbero studiando nuove idee che possano portare alla sperata risoluzione della vicenda, che siano compatibili con le necessità della cittadina tirrenica, ma soprattutto che siano idee che non deturpino la bellezza dello scoglio della regina che è uno delle punte di diamante dell'intero parco marino Riviera dei Cedri. Ci spostiamo ora in Basilicata. Una messa ed una fiaccolata in ricordo di Vladia Chiappati è prevista per le 18.30 di oggi pomeriggio per le vie di Lago Negro in provincia di Potenza, paese natio. La manifestazione è stata organizzata dalla famiglia della giovane che, lo ricordiamo, esattamente un mese fa è stata trovata morta a Praia Mare con una ferita da arma da taglio all'addome e dopo essere precipitata da un terrazzo posso al primo piano dell'abitazione in cui conviveva con un uomo del posto. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini della Procura della Repubblica di Paola. Le vie di Dioniso e Bacco nel Golfo di Policastro è il titolo dell'evento organizzato dalla Proloco di Maratea. La manifestazione è suddivisa in tre giorni all'obiettivo di destagionalizzazione del turismo e gode della collaborazione dell'ONAV Reggio Calabria dei contributi del Consiglio regionale della Basilicata della provincia di Potenza e del Banco di Napoli oltre che del patrocinio del comune di Maratea dell'APT Basilicata e della Camera di Commercio di Potenza. Previste manifestazioni anche nei comuni di San Giovanni Appiro in provincia di Salerno, San Nicolarcella e Verbicaro in provincia di Cosenza. Il clou, è scritto in un comunicato della Proloco di Maratea, è previsto sabato 28 aprile alle 16 presso il Grand Hotel Pianeta Maratea con il convegno Enoturismo nel Golfo. Valorizzazione prospettive, al termine del quale è previsto poi un percorso di degustazione dei vini delle cantine Lucane, Campane e Calabresi aderenti all'iniziativa. Petrolio nel Vallo di Viano, di recente visita a Pertosa del Ministro per la Coesione Territoriale Fabrizio Barca per affrontare il tema delle nuove trivellazioni proposte dalla Shell. Il servizio. Come era prevedibile la presenza del Ministro per la Coesione Territoriale Fabrizio Barca a Pertosa domenica scorsa, è stata anche l'occasione per affrontare il tema che è stato all'ordine del giorno negli ultimi mesi nel Vallo di Diano, e cioè la richiesta di Shell di effettuare sondaggi petroliferi in otto comuni del Vallo di Diano e in quattro della vicina Lucania. A dare il via libera al progetto denominato Monte Cavallo e alla relativa richiesta di valutazione di impatto ambientale al momento archiviata dalla Regione Campania era stato infatti proprio il Governo Monti e in particolare il Ministro dello Sviluppo Economico Passera. Sulla possibile contraddizione tra sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e la prosecuzione delle ricerche e delle estrazioni petrolifere il Ministro Barca è stato chiaro. Nessuna contraddizione ma necessità di portare avanti entrambe le prospettive. Guardi, con franchezza, un uso bilanciato delle diverse fonti è la strada migliore. Potrei dirle che anche uno sviluppo delle rinnovabili che avviene spiazzando l'agricoltura da ettere e ettere di terra che poi magari non è più utilizzabile o piazzando pale e oliche su colline che non forniscono neanche l'elettricità ai cittadini che anzi devono pagare una bolletta più elevata per pagare quelle pale la cui produzione finisce in altri paesi non è necessariamente una scelta corretta. Ognuna delle soluzioni ha dei risvolti come evidentemente estrarre petrolio con delle modalità che siano... Si tratta di estrarre petrolio però in centri altamente urbanizzati dove parco e siti unesco. Si tratta di vedere le modalità in cui questo viene fatto. L'esperienza da Basilicata ha mostrato nella Val d'Agri di poterlo fare in alcuni centri in modo appropriato in altri meno appropriato. Io credo che noi dobbiamo uscire in Italia da una contrapposizione ideologica. Dobbiamo guardare caso per caso e dobbiamo essere però sicuri che le popolazioni locali questo deve avvenire sempre. Si tratti di pannelli, di pale o di petrolio siano in governo dell'utilizzo delle risorse che vengono estratte dai loro luoghi. Insomma le risposte di Barca sembrano manifestare in modo chiaro l'atteggiamento del governo in tema petrolio. Non bastano le energie rinnovabili ma l'Italia ha bisogno più che mai di proseguire dove è possibile con le estrazioni petrolifere. Ed il greggio si sa è presente per la maggior parte solo in Basilicata e forse nel Vallo di Diano. È da allora difficile immaginare il peso che potranno avere le delibere contrarie all'istanza Monte Cavallo dei 15 comuni valdianesi e le 10.000 firme raccolte dal comitato no petrolio nel Vallo di Diano. Anche perché sulle firme raccolte il ministro Barca ha qualche perplessità. Non sono abbastanza competente per sapere se quel processo decisionale e quella valutazione si è avvenuta con una piena conoscenza delle alternative che esistevano. Io mi sono trovato a gestire situazioni difficilissime legate a complessi progetti. Il problema fondamentale è che l'espressione della volontà deve avvenire con una conoscenza delle informazioni disponibili e sempre delle alternative. Non sono in grado di sapere come è stata espressa questa volontà. Prima di salutarci giusto il tempo di due appuntamenti previsti in giornata a San Nicolà Arcella Consiglio Comunale all'ordine del giorno approvazione del conto consuntivo 2010 e del 2011. È previsto alle ore 17 in municipio al Lago Negro invece lo abbiamo detto poco fa messa e fiaccolata il ricordo di Vladi Acchiappati a partire dalle 18 presso la concattedrale di Lago Negro. Con questo è tutto in regia c'era Vittorio Scuotto da Andrea Pulizzo grazie per essere stati con noi buon proseguimento di giornata. Grazie 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 Grazie